Allora, il nuovo direttivo ha deciso di nominare Vassignana Giovanni Presidente Onorario. Allora, Presidente, ci è sembrato anche doveroso per il tuo impegno nel Centro Anziani. Vedi oggi? Vedi oggi? Quanti anni hai fatto nel Centro Anziani, Cesare? 35. Comunque, tanti anni di impegno nel Centro Anziani, abbiamo pensato di consigliarti questa pergamena per riconoscere il lavoro che hai fatto. Un applauso a tutti.